Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi ci sono tre pacchi totali devo anche fare veloce perché tra l'altro questo devo confermare che l'ho ricevuto in realtà poi ne vedrete anche un quarto che mi dovrà arrivare sono tutti ordini che ho fatto da metà gennaio a fine gennaio in realtà quindi come potete immaginare ho diminuito ovviamente visto la grande spesa che ho fatto per il video scorso in realtà non so quando è che lo vedrete questo oggi è giovedì 3 ma sicuramente venerdì 4 non ci sarà un video unboxing forse l'11 arriva quello di Achille Lauro nel caso l'avete già visto questo lo vedrete dopo penso perché sto risparmiando ma anche sto cercando un giradischi per fare il setup diciamo per fare l'upgrade nel frattempo è arrivata la statuetta di Guè che avevo messo Riller su Instagram e questi vinili qua praticamente siccome ce li ho tutti insieme ci faccio un video visto che mi manca anche un bel video tappabuchi se no sarebbero quelli che avreste visto nei reel diciamo cioè le cose che non escono al momento o non sono particolarie in 3-4 casi ci ho fatto il reel per far prima in questo caso faccio un video visto che sono 3 più 1 A1 è di un artista che nello scorso era onnipresente ovviamente Guè è tornato disponibile su Amazon ho detto vabbè dai lo prendo visto che è tornato al prezzo base ma in realtà si trovava facilmente però a spenderci 25 euro o più mi scocciava l'ho trovato disponibile a 20 classico tra l'altro non so perché ma Amazon l'ha inviato in questo pacco che in realtà ho già aperto perché volevo capire se era arrivato intatto quindi non lo so neanche a tagliare geli d'estate di Guè vinile a tiratura limitata sì vabbè era sold out è tornato disponibile ho detto va bene approfitto me lo prendo ci lascerò anche il cellophane visto che il cosa è su nonostante si vede in giro si trova anche in alcuni negozi secondo me non l'ho mai visto dentro come è fatto a proposito io li taglio così no? ho visto Noiz che li struscia così tipo e poi lo apre non ha funzionato vabbè è un EP ah bello dentro giallo così che riprende la copertina cioè lo sticker proprio solito e il vinile semplice col centrino giallo l'ho preso giusto per averlo in collezione visto che è di Guè e ho gli altri ovviamente quelli che mi mancano è perché costano tanto non li prendo di certo adesso prima prendo quelli che mi interessano di più poi passerò a questi andiamo prima con questa che mi è appena arrivato sono andata a ritirarlo tra l'altro è arrivato in una profumeria e c'è un profumo della madonna la ragazza che me l'ha venduto ha fatto tutto il pacchettino speriamo che abbia retto qua l'ho tutto pinzato adesso vai a capire come si apre ha usato la carta di giornale promette bene eh come è arrivato l'ho comprato usato e indovinate a che cifra la solita sempre quella ci ho già preso 2-3 vinile alla solita cifra non ve la dico indovinatela nei commenti non sapevo che valesse tanto in realtà ho visto che su discorps lo vendono a 50 euro io l'ho pagato un quinto non avrei mai pensato che davvero costasse così tanto è un album che non mi dispiace c'ha molti singoli che mi sono piaciuti e sto parlando di è sempre bello di Coez si è arrivato con qualche pieghetta qua e là ma proprio poca roba considerato quello che l'ho pagato davvero mi va più che bene bello che è in rilievo la scritta la copertina mi piace un sacco è una copertina alternativa perché quella del cd o del comunque dei digital store ha l'hamburger e non lo sapevo l'ho scoperto tramite discorps appunto perché ho visto che questa ragazza ce l'aveva in vendita sta cifra stupida cioè proprio e l'ha chiamato anche dvd coez e nella descrizione c'era detto vinile ho detto ma è il cd o il dvd perché c'era solo sta foto qua no? e non cioè non scapiva tipo dal bollino sia e queste cose qui allora vado a vedere su discorps e vedo che c'era la differenza ho detto minchia allora il vinile ho comprato subito e dentro anche qua la copertina si è un po' rovinata questo me l'hanno detto a diverse persone quando si spediscono i vinili che non sono sigillati ma anche nel caso di due pequeño era sigillato ma vabbè il vinile va fuori dalla dalla sleeve e dalla custodia il vinile è nero anche questo classico con qui la doppia copertina fronte-retro e da questa parte invece la tracklist è giusto da darci una pulita la sleeve bellissima che ricorda la carta del panino dell'hamburger infatti appunto è il tema è quello e non ho capito una cosa nella promozione del disco con schiccazzo i panini cioè c'entrava Burghez o no? cioè Burghez e Coez hanno fatto la collaborazione perché hanno il nome Similez oppure Burghez è di Coez o non c'entra un cazzo e me lo sono sognato se lo sapete fatemelo sapere nei commenti perché mi interessa e l'ultimo di oggi considerato la spedizione l'ho pagato davvero una scemata ed è un vinile che è definito abbastanza come classico degli pop italiano adesso vedrete di cosa sto parlando non lo conoscevo o meglio conoscevo chi faceva parte del gruppo è un duo ma non avevo mai ascoltato il disco l'ho ascoltato l'altro giorno ed è davvero molto bello lo inviano nella nella bustina protettiva e sto parlando di l'alba di La Creme che è il duo fatto da Jack the Smoker e Mace ah non è sigillato ma è in questa bustina qua meglio faccio prima qua è bellissimo che La Creme è scritto in quel materiale diciamo lucido mettiamola così che è il solito di Musica senza musicisti non so ancora come si chiama la copertina nel vinile è in bianco e nero mentre nel cd era colorata e giusto qualche tempo fa ormai un mesetto fa circa Mace aveva pubblicato questa foto su Instagram raccontando la storia che c'è dietro quindi se andate sul suo profilo la spiega è molto interessante all'interno ci sono tutte queste foto qua in bianco e nero molto anni 90 primi 2000 qui overdrive La Creme la numero 365 su 500 e i vinili dovrebbero esserne bello anche dietro qua comunque come è fatto è bellissimo molto hip hop il disco giustamente non è sigillato perché l'hanno numerato a mano e poi l'hanno venduto direttamente senza sigillarlo ha senso i primi 150 200 non mi ricordo sono col vinile rosso io ho preso il vinile nero che era quello rimasto e mi va più che bene questo è il vinile la scritta la crema così ricorda un po' quella di DJ Shock 60 Hertz e di Mistaman che erano entrambi di SyFam questo invece non è SyFam non so però se magari in quegli anni sono state fatte dal solito writer Magalbo che raga mi sto recuperando tutta la la nascita del rap hip hop italiano da prima del 2000 ad oggi fino a un anno fa per me i rap erano Club Dogo Ernia i rapper di adesso Fibra Mar Guè basta questo per me era rap poi ho scoperto nel 2020 Ape poi ho scoperto andando avanti tutto il resto Neff Sangue Misto cioè era che sto recuperando piano piano e l'altro vinile anche questo nero uguale identico devo dire che è molto bello questo lo volevo comprare già da un bel po' ho visto che c'era questo sconto ne ho approfittato questa è per la regola del avere pazienza prima o poi si trovano a prezzi decenti a prezzi scontati gli affari magari in lotto così e ne ho fatti l'ultimo che manca ve lo faccio vedere adesso con l'Andrea del futuro che ormai in ogni video c'è che ha finalmente trovato a un prezzo decente sempre per il solito discorso un disco che cercavo che avevo l'occasione di prenderlo se avete visto il video dell'unboxing l'ho anche nominato e appunto l'ho trovato e ora vi lascio l'unboxing sono l'Andrea del futuro sono appena tornato dal lavoro spero di non aver pezze sotto le braccia l'ultimo pacco di questo unboxing che ho appena ritirato ho fatto una corsa perché sennò chiudeva il posto in realtà ieri me ne è arrivato un altro che però non ho cioè volevo aprire subito e ho messo la foto la storia sul mio profilo Instagram il Verguest Collection quindi seguitemi anche lì perché alcune cose le metto solo lì magari non ho voglia di tirarlo fuori se no vi è un video troppo lungo direi di aprirlo è un vinile che ho visto solamente una volta in vendita fisicamente in un negozio ora è in vendita ne ho visti un paio però a prezzi folli cioè troppo alti l'ho preso a 30 euro più spedizione quindi poco più del valore di uscita penso forse stava sui 25-30 euro comunque mi andava benissimo 30 perché appunto l'ho visto solo a più di 100 euro che non ne vale la pena non l'ho mai visto aperto quindi lo vedrò per la prima volta e lo cercavo perché lo cercavo? perché sono un po' un coglione l'anno scorso infatti era disponibile in un negozio qui a Milano che avevo visto cioè l'ho proprio guardato penso di esserci andato magari quelle 3-4 volte nel giro di 3-4 mesi ed era sempre lì l'ultima volta quando sono andato a prendere neffa non c'era più o non l'ho visto o l'hanno comprato giustamente mentre lo apro vi dico che potrebbe essere l'ultimo video o forse ne avete già visti in realtà non so bene quando lo vedrete questo con questo giradischi perché dovrei aver trovato dove andarlo a comprare e nel caso non sia ancora uscito uscirà probabilmente un vlog in cui vi faccio vedere che vado a comprarlo e un unboxing più montaggio del giradischi che avrò comprato ma quello è un altro video ora se riuscissi ad aprire questo non capisco come è fatta sta linguetta qua la devo rompere il vinile in questione o madonna di ketama 126 ecco cos'è che faceva rumore ci hanno messo un cartone in più per fare più spessore ottima idea la copertina che dovrebbe riprendere il louvre dove c'è la gioconda invece c'è keti o madonna mi piace molto il fatto che abbia questo bordino nero è un po' tipo 06 di frenetica orange e in effetti l'etichetta è agent fake anche in questo caso uno dei primi dischi di ketama dovrebbe essere il primo su vinile o secondo cioè praticamente sono pochi sono tre solo su vinile o madonna rehab e keti reborn e a me ora ne manca solo uno non tiriamo fuori questa storia mi sembra un pochino fragile la copertina perché essendo un vinile singolo e tutto è proprio un po' un po' leggerina qua di lato c'è 126 lato A lato B e ora vediamo dentro com'è super semplice bianco la sleeve in ottime condizioni fortunatamente e il vinile vero e proprio tutto nero standard semplicissimo bello mi piace mi piace il font usato ci sta bene perché appunto c'è il nero della cornice che dà quel senso in più sono contento che sia arrivato in ottimo stato adesso ne manca solo uno piano piano col casco lo copro a 100 euro se devo spendere 100 euro per un vinile o 200 ne prendo sicuramente qualcos'altro quindi niente questo era il vinile di oggi vi lascio l'andrea del passato che ha concluso il video quindi oh madonna di ketama 126 per gli amici keti lasciatemi un piaccio se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video al prossimo unboxing quando vedrete sto video non lo so ciao